Sto viaggiando lungo le Marche dei Sapori per raccontare e suggerire a te, turista o viaggiatore del gusto, territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali d'Italia. Situato alla confluenza del Tronto e del Castellano, a meno di 30 km dall'Adriatico, Ascoli è tuttavia il più interno e montano dei quattro capoluoghi marchigiani. La città ha aspetto severo, monumentale, con assetto urbanistico medievale che ricalca il precedente disegno romano. Insiste forse sull'area del foro l'antica piazza Arringo, che ha intorno il palazzo comunale, il Duomo, il Battistero. L'altra grande piazza a Scolana è quella del Popolo, cinta da bassi palazzetti rinascimentali, merlati e a portici, animatissima di sera con la chiesa di San Francesco e il Palazzo dei Capitani del Popolo. Sotto ai portici c'è lo storico caffè ex Meletti, in stile Liberty, dove si serviva l'anesetta. La cucina annuncia il vigore della tavola abruzzese. E ha come specialità più celebre l'oliva scolana del Piceno, D.O.P., diffusamente coltivata intorno al capoluogo, dalla polpa carnosa, adatta a essere riempita di carne, imparata e fritta. Poi si va dai picconi, ravioli ripieni di formaggio, ai cannelloni alla scolana, dall'agbacchio al capretto arrosto, dalla rustica torta natalizia detta fristingo, a base di fichi e frutta secca, alle ciambelle al mosto. Si bevono i vini d'oc dell'ascolano, rosso piceno o falerio dei colli ascolani e si assaggia il mistrà, liquore all'anice. Il quadro delle tipicità alimentari guarda soprattutto alla montagna, ovvero al comprensorio dei sibillini. Dunque allevamento, casearia, salumeria, prodotti del bosco e frutticultura licoristica, diffuse in tutto l'ascolano, sono le salsicce di fegato sott'olio o strutto. Di pecora si alleva una specifica razza, la sopravvissana, e l'agnello si cucina alla cacciatora in bianco. D'agnello ha anche le braciole al rosmarino, salate e insaporite, con grasso di prosciutto battuto con aglio e appunto rosmarino. Tra gli affettati, il più caratteristico è il ciauscolo, IGP, da spalmare sul pane. Buon avvicinamento ai sibillini e alla loro gastronomia. Sono Amandola, luogo di villeggiatura rinomato per polenta con i tordi selvatici, i prosciutti, la ricotta e le mele. La vicina Montefortino per assaggiare un ottimo ciauscolo, Monte Monaco per tartufi, lumache in porchetta e marroni, oltre che per i funghi, peveracci arrosto. Ascoli Piceno, dunque, Ascule in dialetto ascolano, è il comune marchigiano capoluogo dell'omonima provincia, i cui abitanti sono detti ascolani. Il territorio di Ascoli Piceno è situato nella Valle del Tronto. Il centro storico, costruito quasi interamente in travertino, è tra i più monumentali d'Italia, e in esso si trova la rinascimentale Piazza del Popolo. In epoca medievale era caratterizzato dalla presenza di circa 200 torri, la cui erezione iniziò subito dopo il 1000. Secondo la tradizione, Federico II ne fece distruggere 91 nel 1242, e la loro riduzione proseguì nei secoli successivi, ma ancora oggi conserva diversi esempi di torri gentilizie e campanarie, tanto da essere nota come la città delle 100 torri. È l'unica città della regione ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e quello dei Filarmonici. La città è anche conosciuta per l'oliva scolana, specialità gastronomica nata da Ascoli Piceno, e diffusasi in tutto il territorio italiano e anche al di fuori dei confini nazionali. Il suo centro urbano sorge ad un'altitudine di 154 metri sul livello del mare, nella zona di confluenza tra il fiume Tronto e il torrente Castellano, circondato per tre lati da montagne. Inoltre il suo territorio è contornato da due aree naturali protette, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a sud, e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini a nord-ovest. I fiumi Castellano e Tronto, il primo confluendo nel secondo, sono in una conca dai fianchi scoscesi, a 25 chilometri dall'Adriatico, e delimitano una penisola pianeggiante che il colle dell'Annunziata protegge dall'unico lato terragno. La città che la occupa, severa, nobile, dalla compatta tessitura medievale su resti romani, è caratterizzata dal colore caldo del travertino, di cui sono fatti case, palazzi, chiese, fonti e torri. Gli inserti del Rinascimento per i quali più volte ritorna il nome dell'architetto cola della matrice, ovvero Nicola Filotesio. Altro motivo di interesse artistico, forse inatteso, sono le pitture del veneziano Carlo Crivelli, che nella regione fu a capo di un'operosa bottega, ed è già citato eclettico e singolare cola, suo seguace agli esordi, poi signorelliano e michelangiulesco. Costruita dai Piceni su un lungo luogo di grande difendibilità, Asculum subì, tuttavia, la conquista romana nel 286 avanti Cristo, e la sanguinosa riconquista dell'89 avanti Cristo, dopo la guerra sociale, in cui gli Ascolani guidarono la rivolta italica. La città romana era attraversata dalla via Salaria, che entrava in Ascoli dalla porta Gemina, o Binata, tuttora intatta, e ne usciva dal ponte di Cecco, sul fiume Castellano. Resti romani altrettanto significativi sono il ponte di Solestà, il teatro, i ruderi del Capitolium, sul colle dell'Annunziata, e il persistere della denominazione Rua da Ruga a molte vie. La città medievale, sorta su quella romana, ha dato vita a significativi monumenti romanici, quali il Battistero, il cosiddetto Palazzetto Longobardo, e la chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, tutti del 1100. Furono gli anni in cui Ascoli si resse al Libero Comune, dal 1185, che combatté contro Federico II, che nel 1242 la mise a sacco, e contrastò fermo per un accesso al mare. Nel 1502 Ascoli si sottomise al dominio pontificio e nel corso del secolo penetrarono in città anche le forme rinascimentali promosse dal pittore ed architetto «Cola della matrice», come già ho avuto modo di dire. Sono opere sue caratteristiche la facciata del Duomo, il Palazzo Vescovile, la ristrutturazione del Palazzo dei Capitani del Popolo e probabilmente il disegno della loggia dei mercanti. Nel 1600 e 1700 qualche edificio barocco, come Palazzo Panichi e la ristrutturazione dei medievali palazzi del Comune e dell'Arringo, completano il patrimonio architettonico di Ascoli. Da allora il suo centro storico non mutò più. Come non mutò più, tranne che nella parentesi napoleonica, la sua appartenenza allo stato pontificio sino al 1860. Da allora la città ha triplicato la sua popolazione e si è stesa oltre i fiumi, soprattutto verso nord e verso est. Nel corso del tempo la città fu identificata con il nome greco-romano di Asculon ed Asclos. Strabone la chiamò in greco nella variante Asclon, to pichenon, la tavola peuntigeriana, la mappa stradale romana, la citò come Asclopiceno e Paolo di Acono solo come Asculus. Ad Ascoli il termine picenum fu accostato già da Giulio Cesare che la chiamò Asculum Picenum sia per distinguerla dalla città della Puglia, l'odierna Puglia, Asculum Apulum, ora Ascoli Satriano, e sia per riconoscere la sua posizione di appartenenza alla regione del Picenum Suburbicarium. Durante il periodo delle invasioni gote e longobarde vi fu un imbarbarimento della lingua ed Asculum divenne solo Esculum senza l'aggiunta di Picenum. Intorno all'anno 1000 la denominazione della città sui documenti e sugli statuti dell'epoca fu Esculo che in seguito si trasformò in Asculo e intorno al 1700 divenne Ascoli. Le origini della città sono avvolte nel mistero ma è abbastanza sicuro che vi fosse la presenza umana già dall'età della pietra e che la zona fosse abitata già nell'epoca neolitica. Secondo una tradizione italica citata nella letteratura antica Strabone Plinio e Festo la città venne fondata da un gruppo di sabini che vennero guidati da un picchio uccello sacro a Marte durante una delle loro migrazioni detta Ver Sacrum. I sabini poi si sarebbero fusi con altre popolazioni autoctone dando origine ai Piceni che fondarono Ascoli 1600 anni prima della fondazione di Roma. Nel 299 a.C. Ascoli si alleò con i Romani nel contesto della terza guerra sannitica e dopo la guerra picentina nel 269 a.C. divenne civita sfederata di Roma mantenendo una certa autonomia. In età romana Ascoli divenne il centro principale del Piceno anche grazie alla sua posizione sulla via salaria che collegava le saline della foce del Tevere a quelle della costa adriatica. Nel 91 a.C. si ribellò a Roma insieme ad altre genti italiche e dette vita alla guerra sociale. Nell'89 a.C. dopo un lungo assedio il generale romano Gneo Pompeo Strabone conquistò la città trucidando i capi della rivolta e mandando in esilio parte dei suoi abitanti. Testimonianze archeologiche della ribellione di Ascoli contro i romani sono le ghiande missili proiettili in piombo che venivano scagliati dai frombolieri di entrambi gli schieramenti e che in alcuni casi recano iscrizioni in particolare invettive contro l'avversario o incitazioni a colpire rivolte direttamente all'oggetto feri ovvero colpisci con il finire della guerra sociale tutte le popolazioni dell'Italia ricevettero la cittadinanza romana così nell'88 a.C. Ascoli fu iscritta alla tribù Fabia e divenne un municipio durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo Ascoli parteggiò per il primo sotto il quale nel 49 a.C. la città assunse definitivamente la denominazione di Ascolum Picenum durante il secondo triunvirato la città ottenne il titolo onorifico di colonia triunvirale evento forse da ricollegarsi al prestigio del generale ascolano Publio Ventidio Basso partigiano di Marco Antonio che sconfisse i parti e celebrò un trionfo ai tempi di Augusto quando l'Italia fu suddivisa in 11 regioni Ascoli fu iscritta alla quinta regione italica il Piceno di cui era uno dei principali centri durante la tarda antichità in seguito alle riforme amministrative volute da Diocleziano e da Costantino il territorio ascolano divenne parte del Picenum Suburbicarium una delle province che componevano la diocesi d'Italia con la caduta dell'impero romano d'Occidente Ascoli seguì il destino del resto d'Italia nell'alto medioevo subì la decadenza economica e le razzie dei barbari tra cui quella dei goti di Totila tra il 544 e il 545 e dei longobardi di Faroaldo I nel 578 dopo l'assedio del 578 la città entrò a far parte del ducato di Spoleto sotto il dominio longobardo finché non passò sotto il controllo dei franchi scesi in Italia al seguito di Carlo Magno in questi secoli si accentuò il potere dei vescovi i cosiddetti vescovi conti tra cui Corrado II che con apposito diploma concesse al feudatario vescovo Bernardo I nel 1037 il diritto di zecca nel periodo la città viene trascinata in più occasioni nella più vasta lotta per il predominio in Europa tra Guelfi e Ghibellini nel 1183 si costituì il libero comune conoscendo però il saccheggio e la distruzione ad opera delle armate imperiali di Federico II la libertà le libertà municipali furono minate dalle lotte di fazioni tra le famiglie più in vista tra cui il signore Andrea d'Acquaviva importanti famiglie nobiliari a scolane medievali coinvolte direttamente nelle vicissitudini politiche della città furono quelle dei guiderocchi e dei saladini durante la conquista di Ladislao I re di Napoli la città fu governata dal famoso condottiero italiano conte da Carrara appartenente alla nobile famiglia padovana dei Carraresi al quale il sovrano Partenopeo concesse il titolo di vicere dell'Abruzzo e principe di Ascoli per sé e per i suoi figli che gli successero ad Ardizzone e Obizzo quando lo seppellirono in pompa magna nel duomo della città le lotte finirono per aprire la strada a personaggi ambiziosi come Galeotto Malatesta nel 1300 che venne cacciato da una rivolta e in seguito a Francesco Sforza che instaurò una crudele dittatura nel 1400 e che venne abbattuta nel 1482 anche se Ascoli fu costretta a riconoscere la sovranità della chiesa non cessarono i disordini interni tra opposte fazioni che condussero a decenni di ribellioni massacri razzie alla crescita del banditismo e alla decadenza delle virtù civili e all'inizio è semplice